Più controlli, più uomini e volanti presenti sul territorio, più provvedimenti legati a misure di prevenzione. È il bilancio dell'estate appena trascorsa fornito dalla Questura di Campobasso. In conferenza stampa il Questore Vito Montaruli ha reso noti i numeri dei tre mesi appena trascorsi sul territorio della provincia. Tra Campobasso e Termoli le persone controllate sono state tra il 32 e il 53 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i veicoli controllati invece l'incremento è stato tra il 25 e il 50 per cento. Abbiamo riorganizzato le volanti, abbiamo assegnato qualche elemento in più alle volanti nell'ambito di quelle che erano le disponibilità messe a disposizione dal Dipartimento. Per cui adesso di norma abbiamo, e soprattutto questo in periodo autunnale e invernale, avremo a disposizione due battuglie sul territorio che consentono una maggiore sicurezza sia per gli interventi sia per i cittadini ma anche per i nostri stessi operatori. Sul fronte delle misure di prevenzione sono stati emessi in tre mesi 45 provvedimenti contro i 17 dello stesso periodo di un anno fa. Tra questi anche quattro d'aspo per altrettanti tifosi di Campobasso e Termoli in seguito al derby del 27 agosto scorso. Alcuni molto importanti come i DACUR, il cosiddetto DASPO Willi che viene attuato nel caso dei soggetti che si rendono responsabili di atti di episodi di violenza nei pressi di esercizi pubblici o negli esercizi pubblici. In tema di sicurezza il Questore ha annunciato anche una novità grazie alla sinergia tra Questura e Comune di Campobasso è stato attivato il collegamento del sistema della videosorveglianza cittadina con la sala operativa della Questura. Non è stato facile attuare questa iniziativa, speriamo in altri comuni, però già importante per il capoluogo ma non solo per le attività investigative ma soprattutto per il controllo del territorio perché ci consente in tempo reale dalla nostra sala operativa di monitorare anche eventi e manifestazioni e soprattutto di monitorare quelli che possono essere eventuali e episodi criminali in modo che si possa reagire in tempo reale a queste minacce alla sicurezza pubblica. Nel corso della conferenza stampa è stata infine evidenziata anche la risoluzione dei problemi legati al rilascio dei passaporti. Nei mesi estivi c'è stato un aumento del 60% dei documenti rilasciati e i tempi per ottenere il passaporto sono scesi in caso di necessità urgente a 23 giorni.